Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema spalmabile al parmigiano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono parmigiano a cubetti, burro morbido, sale, pepe e panna vegetale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la panna, un pizzico di sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4. La crema è pronta, trasferire in una ciotola. Crema spalmabile al parmigiano, ideale per bruschette o grostini. Si conserva in frigo per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!